Salve a tutti ragazzi, bentornati nella storia secondo COS. Oggi parleremo del Panther o il Panzer V. Allora, cosa possiamo dire? Devo partire dalle cose brutte o dalle cose belle? Allora, partiamo dalle cose belle, va che è meglio. Il Panther. Il Panther è uno di quei veicoli che è nell'immaginario collettivo uno dei migliori mezzi che hanno dominato la seconda guerra mondiale dalla parte tedesca e che ha ingaggiato combattimento nel fronte est e nel fronte ovest e nel teatro del Mediterraneo. Un carro medio, sviluppato a partire dalle richieste della Wehrmacht per poter adempiere ai ruoli che non erano assolutamente adibiti al Panzer IV e al Panzer III, venne poi messo in stand-by perché non se ne era sentita la ragione e la necessità di dover sopperire alle mancanze degli altri due veicoli. Ricordiamoci che il Panzer IV serviva come un carro da sfondamento, quindi era un carro d'assalto, mentre il Panzer III era più un carro antitank e di supporto fanteria. Lo Sturmgeschütz, o Stug, era quello adibito alla distruzione dei forti e a fornire artiglieria locale per la fanteria. Ma questi ruoli poi vennero completamente rivalutati e rimaneggiati con il passare del tempo, già a partire dalla campagna di Francia. Ma di questo ne parleremo quando affronteremo il discorso con i Panzer III, Panzer IV e Panzer II soprattutto. In questo momento abbiamo un Panzer V, il Panther, di cui discutere. Il Panther già all'inizio, già sulla fine degli anni 30, era già stato ipotizzato un upgrade per le forze corazzate tedesche. E il Panther era già nel design, era già pronto per essere prodotto, ma era decisamente diverso rispetto a quello che conosciamo oggi. La versione odierna del Panther, quella che conosciamo, è stata generata in seguito all'incontro da parte dei tedeschi dei T-34 sovietici. Corazza inclinata, buona mobilità, buon cannone, buona ricarica, una terretta decente. Insomma, il T-34 aveva fatto sviluppare la necessità da parte tedesca di promuovere un carro che fosse adibito alla caccia, a essere in grado di affrontare il nemico da lunga distanza, penetrandolo senza problemi e resistendo ai colpi nemici. Il Panther fu proprio questo. Quello che dobbiamo dire però è che il Panther, sebbene abbia tutte queste bellissime caratteristiche che lo rendevano effettivamente un carro mortale, perché sulla carta è forse il miglior design che i tedeschi abbiano buttato fuori durante la seconda guerra mondiale, proprio dal ground up, da averlo fatto da zero. Il problema vero è che non aveva un motore affidabile, non aveva una trasmissione affidabile, non aveva dei cingoli affidabili, fare manutenzione era un incubo. Stiamo parlando di un mezzo che per poter accedere alla trasmissione non c'era altro modo se non aprire tutto questo pezzo e non c'era la possibilità di fare altro che prendere una bella accetta, una fiamma ossidrica e tagliare. Non c'era altro modo. Quindi nel caso ci fossero da fare delle manutenzioni in campo, il carro era reso completamente inservibile e non poteva più muoversi da nessuna parte. Questo rese il Panther un problema, ma come ogni cosa tedesca del periodo, era sovracomplicata, sovradimensionata nelle minuziosità con cui doveva essere prodotto. Il Panther era sì un ottimo tank, forse fu il primo ad avere un concetto di main battle tank, proprio un accenno, un leggerissimo accenno. Ed era indubbiamente ottimo, ma cosa te ne fai di un carro che continua a rompersi, di un carro che non è affidabile, di un carro che quando si rompe non puoi sistemarlo sul campo, come invece era un Panzer IV, o come invece era uno Sherman, o peggio ancora un T-34, che erano costruiti in modo che fossero adatti ad una sostituzione immediata, nel caso erano colpiti malamente, oppure essere riparati alla bella e meglio immediatamente, anche dall'equipaggio stesso se possibile. Rendeva tutto questo il Panther sì un ottimo carro, ma debole, fragile. Ricordiamoci che la maggior parte dei Panther che erano impiegati sul fronte della Battle of Bulge, quindi della battaglia dell'Ardenne durante l'ultima grande controoffensiva tedesca, si dice che c'erano tantissimi Panther, ma non viene detto che più della metà di questi Panther erano bloccati nei depositi perché avevano dei problemi meccanici e strutturali. Ovvio, il Panther, come la maggior parte dei carri del mid-late della guerra, erano impenetrabili da parte alleata con i loro canoni da 75. La corazza aveva 80 mm che lo rendeva spesso, dai 120 ai 130 mm di corazza, grazie all'inclinazione. La torretta pure di 100-120 rendeva impossibile dalle medie e lunghe distanze i carri alleati di penetrarli. E questo per il Panther era un ottimo vantaggio. Questo veicolo fu un bel problema quando si presentò sul campo di battaglia e andò lentamente a sostituire i Panzer IV col 75 lungo che erano nel frattempo stati modificati e aggiornati nelle varie versioni G, H e J per cercare di mettere un tappo alla minaccia e alle problematiche che venivano incontrati sul campo da parte tedesca. Ovviamente questi sviluppi non sono dettati dall'incontro con gli alleati, quindi con Stati Uniti, Inghilterra e il Commonwealth britannico, ma bensì con l'incontro con i tedeschi, perché tutte le modifiche che sono state fatte dai tedeschi per cercare di sopperire alle proprie mancanze sono dovute agli incontri che hanno fatto con i russi, perché hanno incontrato i T-34, hanno incontrato gli Joseph Stalin, hanno incontrato i Seiyu, il Su, poteva essere capita male la frase. Tutti i veicoli che avevano sì una grande potenza distruttiva, ma erano anche molto agili, molto performanti a livello tecnico, cosa che invece i tedeschi non riuscivano ad avere, soprattutto avevano degli ottimi cannoni, e questo indusse i tedeschi a trovare una soluzione per poter limitare le perdite, perché i Panzer III, i Panzer IV, per quanto li potessi aggiornare e migliorare, erano sempre piccoli, erano sempre carri ideati per altri ruoli, e più di quel tanto non li puoi modificare dei carri, anche perché altrimenti dovresti andare a modificare completamente le linee di produzione, il che andrebbe a provocare uno scompenso a livello economico. Già i tedeschi con tutti i modelli che hanno sviluppato, con tutte le spese che hanno eseguito sui Tiger, Tiger II, Tiger, Tiger II, Panther, Panzer IV, Panzer III, versioni di cacciacarri con Panther, Ferdinand, Elephant, Nashorn, Marder III, Marder IV, Marder V, ne hanno fatte di cotte e di crude. La maggior parte erano design strutturati per dire ok, abbiamo un carro che non funziona più, lo sistemiamo, gli togliamo la torretta, lo apriamo un attimo e ci mettiamo sopra un cannone più forte e abbiamo un nuovo mezzo antitank, abbiamo un mezzo di sostegno e della fanteria e va tutto bene così. Abbiamo un mezzo di combattimento in più. Ma altri invece erano proprio design fatti per essere prodotti in serie. E questo andò a incidere tanto sull'economia tedesca, per fortuna, da certi punti di vista, ma adesso stiamo parlando solo e esclusivamente di design, dello spreco di materie prime. Fossero stati prodotti, invece che i Panther o i Tiger, fossero stati prodotti più Panzer IV, magari aggiornati per poter permettere una loro sopravvivenza migliore sui campi di battaglia, probabilmente i tedeschi avrebbero avuto più carri da poter schierare, da poter mettere in campo, per poter ottenere un significativo vantaggio sul nemico. Cosa che invece non si venne a creare. Voglio ricordare a tutti che è semplice parlare della predominanza tedesca quando si va a parlare di una guerra difensiva. Perché da un certo periodo in poi i tedeschi sono dovuti rimanere fermi, non avanzavano più, non potevano più eseguire dei contrattacchi significativi per mangiare terreno. Quindi Tigre, Tigre II, Panther, loro cacciacarri, era semplice rimanere in posizioni di difesa e provocare kill e distruzione. Un altro conto era avanzare e prendere il controllo di nuove aree, di nuovi fronti. Il Panther venne creato in varie versioni, A, B, C, D, E, andiamo avanti con tutta una serie di versioni che erano tutte una più diversa dall'altra, con delle varie migliorie, addirittura alcuni vennero posizionati, vennero ottennero delle nuove torrette, tipo il Panther F. Il Panther F ricevete una Schmalturm, una torretta modificata, un 88mm, perdono, stavo dicendo una cazzata, no, un 75mm KVK, l'88mm era programmato solo per il Panther II. La Schmalturm era un tentativo di rendere la torretta del Panther più efficiente, più resistente, più survival, soprattutto in un periodo in cui i T-34-85 incominciavano a cicciare fuori come formiche e quindi le torrette normali non potevano più sostenere i colpi e i danni che venivano provocati. In sostanza il Panther doveva essere nel futuro della ideologia del combattimento via carri, doveva essere la base di costruzione per quelli che poi sarebbero stati gli E-50. la classe E, che è la versione standardizzata di tutti i mezzi di combattimento tedeschi, avrebbe dovuto generare un carro armato E-50, che era semplicemente il successore del Panther, che avrebbe standardizzato con le varie serie E-75 ed E-100 i pezzi. Quindi la serie di produzione avrebbe avuto una base solida, dei pezzi comuni da poter impiegare e questa e questo sarebbe stato un progetto perfetto. Avrebbero sistemato tutti i problemi. Il Panther 2, che è solamente un'idea, non è mai esistito il Panther 2 in sé come tipo di carro, non è mai esistito. Però l'idea era quella di sopperire al cannone, mettendo finalmente un cannone da 88 mm, tenere la Schemalturm, come al solito, come è stato per la versione del Panther F, aggiornare la trasmissione, aggiornare il motore e standardizzare man mano i pezzi, per poi dopo arrivare alle E-50. Il problema è che questo non venne mai fatto, non si ebbe il tempo di farlo. La Germania perdeva colpi, non riusciva più a produrre abbastanza pezzi per poterli mandare sul fronte e la guerra era ormai bella che finita. Sì, il Panther è un design di carro che a me piace. È più in linea sulle mie corde rispetto a un Tigre o un Tigre 2. È soprattutto più utile. Stiamo parlando di un carro più leggero, stiamo parlando di un carro che ha mobilità, che ha protezione, che ha un buon cannone. Addirittura il Panther di base, con il suo 75 lungo, era più performante dell'88 del Tigre, appunto perché aveva la canna lunga e aveva un munizionamento migliore. Questa la dice lunga. Questo è un main battle tank, signori. Il Panther è un main battle tank. È l'inizio del main battle tank, del concetto di main battle tank. Ma non lo è, alla fin fine. Lo è, ma non lo è. Perché un main battle tank deve essere efficace, deve essere performante e deve essere affidabile. E affidabile il Panther non lo era assolutamente. Come al solito, se avete domande, se avete dubbi, se volete sapere qualcosa di più, di specifico, su determinati argomenti, io sono a disposizione. Questo era la fine dell'ennesimo titolo della storia secondo COS. e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.